La scuola stoica nasce ad Atene intorno al 300 a.C. Il fondatore è Zenone di Cizio. Allora, innanzitutto facciamo una piccola introduzione ai fondamenti della filosofia stoica prima di entrare maggiormente nel dettaglio. Lo stoicismo esprime una visione del mondo secondo la quale esiste un ordine immutabile, razionale e necessario delle cose. Questo ordine si manifesta secondo un andamento ciclico dell'universo in cui tutto si ripete in maniera identica. Questo ciclo eterno ed ordinato è determinato dalla divinità che vive in tutte le cose. In tal senso, dunque, lo stoicismo esprime una visione panteistica della natura, ovvero Dio è nella natura. Rispetto a questo ordine delle cose, l'uomo realizza il suo bene semplicemente nell'adattarvisi, nel non volerlo modificare né nel bene né nel male. Questa visione è espressa nelle due parti principali della filosofia stoica, la fisica, in cui viene studiata la struttura della natura, e l'etica, che determina la distinzione fra bene e male come conseguenza della struttura della natura. Entriamo quindi ora un po' più nel dettaglio. Per quanto riguarda la fisica, i punti fondamentali del pensiero stoico sono che? Innanzitutto, nella natura esistono due principi. Un principio attivo, che è la divinità, un principio passivo, che è la materia che subisce l'azione divina. La divinità non è una forza estratta, ma è materiale anch'essa e si manifesta sotto forma di fuoco. Per fuoco gli stoici intendono un soffio vitale, che chiamano Pneuma, un soffio vitale che è in tutte le cose. La divinità, in quanto soffio vitale che determina il tutto, è la ragione seminale del mondo, ovvero è ciò grazie a cui tutte le cose si generano. Dal momento che tutto è materiale, anche l'anima umana è materiale. Essa è parte del soffio vitale divino, dunque è composto dal fuoco, è immortale e fa parte del tutto. La vita dell'universo segue un andamento ciclico che si ripete sempre uguale a se stesso, come abbiamo detto. Gli stoici chiamano questo ripetersi uguale a se stesso dell'universo destino. Questo destino è ovviamente determinato dalla divinità, quindi in tal senso si chiama anche provvidenza, ovvero tutto va verso un fine stabilito dalla divinità. Qual è il fine di questa provvidenza? secondo gli stoici è il bene dell'uomo. A questo punto si passa al discorso etico e tale discorso è necessariamente conseguenziale alla visione fisica, perché è evidente che nel mondo infatti esiste un ordine perfetto, necessario, determinato dalla divinità, è necessario che il bene consegua a questa visione, che il male anche in qualche misura consegua a questa visione. In tal senso qual è la distinzione fra bene e male? Il bene è l'adattarsi a quest'ordine, entrare in armonia con esso, il male invece è infrangere questo ordine, romperlo. A questo punto la domanda ci si pone è come si può vivere in armonia con l'ordine naturale delle cose. La risposta che danno gli stoici è che non serve farsi guidare dagli istinti, bensì dalla ragione, perché è la ragione che ci può far comprendere l'ordine necessario delle cose e quindi ci spinge ad adeguarci ad esso. Da questo punto di vista dunque il valore per eccellenza dello stocismo è il valore del dovere, perché che cos'è il dovere? Il dovere consiste nell'adattarsi necessariamente all'ordine delle cose. Realizzando il dovere infatti si realizza il bene e dunque si realizza la virtù. L'uomo virtuoso per eccellenza è il sapiente in quanto è consapevole dell'ordine cosmico e vi si adatta. Altra questione, come ci si adatta all'ordine cosmico? Risposta, l'atteggiamento deve essere quello della indifferenza. Gli stoici parlano, introdurono qua il tema della dottrina delle cose indifferenti. Cosa vuol dire dottrina delle cose indifferenti? Vuol dire che il sapiente è colui che è indifferente a tutto quanto lo circonda. Tanto è beni materiali quanto alle avversità della vita, dal momento che è consapevole che quanto accade non è altro che la manifestazione dell'ordine necessario del mondo. Il sapiente dunque è colui che raggiunge l'apatia, che non significa immobilità di fronte alle cose, passività di fronte alle cose, ma vuol dire in termini stoici indifferenza alle emozioni, vuol dire liberazione dalle passioni. Bene, il discorso è sostanzialmente concluso qui. Ma prima di chiudere del tutto, abbiamo una piccola parentesi per una opportuna precisazione. L'indifferenza alle cose del mondo comporta che i saggi debbano rinunciare ai beni della vita, come ad esempio la salute o la ricchezza? La risposta che si danno gli stoici è no, che anzi ci dicono che la salute è meglio della malattia, la ricchezza è meglio della povertà. Ma ci avvisano di cosa? Ci avvisano che questi non devono diventare fini della nostra vita. D'altronde, spiega sempre la filosofia stoica, anche lo schiavo può essere libero se dentro di sé raggiungere l'indifferenza rispetto alle avversità della vita.